Rinizia, anzi ricomincia un altro percorso della Libera Accademia, il ventunesimo, sono ventun'anni. Il ventunesimo, pensa Edoardo, ventuno anni di Accademia, inizia il ventunesimo e siamo particolarmente contenti, siamo felici di essere in questa cornice davvero emozionante per far ripartire il nostro anno con i nostri corsi dai piccolissimi dell'età prescolare dai 4 ai 6 anni fino agli adulti e anche agli adulti che fanno teatro d'argento, abbiamo corsi per tutte le età. E quest'anno anche una ripresa di un corso a cui teniamo molto che si chiama Il Teatro Interiore che tiene Francesca Barbagli. Quindi quest'anno con me anche un percorso un po' particolare in cui mettiamo in scena proprio la vita e quindi cerchiamo di conoscere meglio certi meccanismi della nostra personalità. Fiancherò uno dei maestri della Libera Accademia Storici e come primo anno di collaborazione più stretta in questo senso sono molto contento perché sono stato affiancato ad Andrea Piagiotti e quindi per me è prima di tutto un onore. Poi in verità negli anni ho già collaborato a distanza con i gruppi che seguiva Andrea perché alcuni miei testi sono stati messi in scena quindi come dire piano piano sono arrivato a questa collaborazione ancora più stretta quindi per me è una bella nuova esperienza che sta per partire.